Quarto appuntamento ieri sera, giovedì 28 gennaio 2016, con la decima stagione di Don Matteo, la fiction record di Ascoltib con protagonista l'inossidabile Terence Hill. A seguire trovate il riassunto. Mentre Tommasi e Cecchini stanno facendo di tutto per conquistare la stima e la fiducia di Ferri, Laura scopre che Sabrina si incontra con qualcuno durante l'errore in cui lavora il Campovuro. Tommasi quindi non ci mette molto a scoprire la verità, e cioè che la ragazza è implicata in uno spaccio di droga, ma la giovane lo fa soltanto per sopravvivere all'interno del carcere dove è detenuta per un crimine che non ha commesso. Probabilmente distratto anche da queste vicende, Tommasi delude Esther perché non riesce ad aiutare la ragazzina a realizzare un planetario per la scuola. Alberto gliene consegna uno facendole credere che è stato Tommas a farlo, ma Esther non gradisce il gesto dell'insegnante. Margherita nel frattempo combina altri disastri e coinvolge anche Tommasi e Cecchini. La donna sta nascondendo molte cose al suo compagno, il quale però non sembra accorgersene e continua a lavorare ai casi come se nulla fosse, coinvolgendo anche Don Matteo, il cui apporto si rivela come sempre fondamentale per la risoluzione dei casi.